Ben trovati con la nostra striscia quotidiana con l'informazione sanitaria. Oggi parliamo del nostro cuore, di come la scienza e la medicina abbiano contribuito ad essere a servizio della nostra salute. Con il nostro ospite in studio, il professor Fiorenzo Gaita, direttore della scuola di specialità in cardiologia e direttore della divisione di cardiologia della città della salute della scienza di Torino, affrontiamo il tema delle nanotecnologie, nanotecnologie che si applicano al cuore. Ma professore, innanzitutto cosa sono le nanotecnologie e come funzionano? Buongiorno a tutti. Nel nanotecnologie è lo sviluppo della tecnica che ha permesso di ridurre, minuetterizzare al massimo degli apparecchi che possono essere in qualche maniera iniettati o addirittura all'interno del cuore, perché piccolissimi, o nascosti al di sotto della pelle. Hanno trovato negli ultimi cinque anni una evoluzione grandissima e hanno diversi impieghi. L'impiego più recente è quello del stimolare il cuore sotto forma di pacemaker, altre forme sono invece quelle di sorvegliare il cuore grazie a dei monitoraggi elettrocardiografici continui. Quindi quando si parla di pacemaker nanominutrizzati, non mi viene la parola, mi scusi, di che cosa si tratta? Per cui bisogna ripercorrere un attimo la storia del pacemaker. Il pacemaker è nato 50 anni fa ed era un filo messo attraverso il torace con cui si stimolava il cuore tramite un marchigegno grosso come il doppio di una valigia 24 ore che veniva trasportato dal paziente su un carrello. E il paziente tutte le sere doveva attaccarsi alla corrente elettrica per ricaricare la batteria di questo sistema che in qualche maniera faceva battere il suo cuore. Negli anni 70 i pacemaker sono diventati piccoli, sempre più piccoli, si sono impiantati a livello del cuore come dei generatori che pesavano prima 100 grammi, oggi pesano circa 20 grammi, che vengono inseriti sotto la pelle, sotto il muscolo pettorale, sotto la mammella e conducono l'attività elettrica dalla batteria contenuta in questi pacemaker fino all'interno del cuore attraverso un filo. Quindi un sistema abbastanza complesso, un filo che dal torace attraverso una vena entra all'interno del cuore, attraverso questo filo il pacemaker riceve delle informazioni e attraverso lo stesso filo permette al cuore di battere. Oggi abbiamo fatto un passo gigantesco in avanti come creando dei microapparecchi talmente piccoli, pesano in tutto 2 grammi, che sono praticamente grandi o poco più grandi della punta del filo, che una volta impiantavamo nel cuore. Bene, questi apparecchi che sono costituiti in 2 grammi riescono a farci stare. Una batteria a litio, un piccolo generatore di impulsi che viene avvitato direttamente all'interno del cuore, come vedete dall'immagine è più o meno delle dimensioni di un 2 euro, ma pesa meno di un 2 euro e questo apparecchio è avvitato direttamente all'interno del cuore. Fantastico. Quali sono i vantaggi rispetto alle tecnologie precedenti? Intanto per alcuni aspetti meno invasivi, per cui viene pilotato attraverso un catetere all'interno del cuore, avvitato e rilasciato all'interno del cuore. Quindi quali vantaggi ha? Primo vantaggio, non devo più fare un intervento chirurgico, tagliare la pelle, inserire il pacemaker sotto la cute e cercare una vena attraverso cui far passare poi il filo per entrare al livello del cuore, come state vedendo adesso nell'immagine del video che vi presentiamo. Come si fa tutto questo? Si fa passando attraverso un lungo introduttore, si arriva fino all'interno del cuore. Vediamo qui il pacemaker che fuoriesce da questo catetere introduttore, entra nel cuore, pieghiamo il catetere in modo da posizionare il pacemaker nel punto preselezionato per essere stimolato, questo punto è normalmente il ventricolo destro. Il pacemaker stiamo provando che sia ben avvitato, adesso vedete che proviamo a tirarlo con dei filini e controlliamo che il pacemaker sia ben avvitato, togliamo via il catetere che lo ha portato fin lì e il pacemaker rimane all'interno del cuore. Ma qualsiasi soggetto può subire un intervento di questo tipo? Teoricamente sì, di fatto no. Di fatto intanto vediamo i vantaggi e i limiti. Vantaggi è più piccolo. Vantaggi viene inserito all'interno del cuore, quindi eliminiamo dei cavi che sono l'anello debole della catena del pacemaker. I cavi messi all'interno del cuore possono rompersi. Qua il cavo che va dal pacemaker al cuore non esiste e il pacemaker messo direttamente all'interno del cuore. Evitiamo il rischio di infezione. Quando ogni 5-10 anni i pacemaker vengono sostituiti, si apre la pelle, la zona in cui il pacemaker è stato impiantato è una zona poco irrorata e una delle complicanze delle sostituzioni del pacemaker è quella che questa zona, proprio perché è poco irrorata, possa infettarsi. Sono dei rischi che vengono valutati intorno all'1-2% dei pazienti portatori di pacemaker, bene, con questo tipo di pacemaker invece tutta questa problematica non c'è. Quali sono i contro? I contro oggi sono intanto un contro di costi. Questi pacemaker costano il doppio rispetto agli altri pacemaker. Un secondo contro. I pacemaker, quelli tradizionali, possono avere anche due o tre fili e stimolare differenti parti del cuore. Questo tipo di pacemaker stimola una sola parte del cuore, quindi non trova indicazione a tutti i portatori di pacemaker, ma soltanto circa il 20% dei portatori di pacemaker. Terzo dato, lo conosciamo da poco. Gli altri pacemaker hanno una storia di circa 50 anni, anzi superiore a 50 anni. Questi pacemaker hanno una storia di non più di un anno, un anno e mezzo. Quindi non sappiamo se quelle che sono le promesse dell'industria saranno realmente realizzate. Ma possono avere effetti quindi nocivi sulla salute delle persone? Questo assolutamente no. Quello a cui alludevo è questi pacemaker quanto durano. La durata di questi pacemaker dovrebbe essere 10 anni e riusciremo tra 10 anni a sostituire questi pacemaker con la stessa identica facilità con cui sostituiamo i pacemaker oggi. Teoricamente sì, però non ci sono dati a questo riguardo, proprio perché sono stati impiantati. Semplicemente da un anno non abbiamo ancora un'esperienza adeguata a questo riguardo. Quindi oggi questo pacemaker a chi va indicato? Ad un sottogruppo di pazienti particolari. Quelli che hanno avuto delle infezioni ai normali cavi dei pacemaker tradizionali o quelli che hanno presentato rotture di questi cavi. Bene, in queste situazioni non si può ripassare con un secondo pacemaker tradizionale attraverso una stessa vena infetta o con un catetere che ha creato dei danni a livello dell'accesso venoso. In questa selezionata casistica oggi è indicato questo tipo di pacemaker. pensi che di pacemaker all'anno ne vengono messi circa un milione nel mondo, solo in Piemonte ne vengono messi 5 mila tutti gli anni. Di questi tipi di pacemaker in tutto il mondo ne sono stati messi circa un migliaio, questi in un anno. Quindi questo le rende conto di come è un'indicazione ancora limitata in fase di valutazione. Il fantastico però è l'apertura di una nuova strada. Le mie previsioni quali sono? Che tra 5-10 anni, quando avremo comprovato che è facile recuperare questi pacemaker all'interno del cuore, svitarli e sostituirli con altri pacemaker, sicuramente rappresenteranno almeno il 20-25% dei pacemaker impiantati al mondo. E quindi non parliamo più dei 1.000-1.500 impiantati in un anno in tutto il mondo, parleremo di 1.000-1.500 pacemaker impiantati all'anno solo in Piemonte. Quindi queste persone a cui è stato impiantato questo tipo di pacemaker in qualche modo sono sotto osservazione? Assolutamente. Queste persone a cui è stato impiantato questo pacemaker sono sotto osservazione della FDA americana. È un istituto che valuta se un nuovo prodotto sia alimentare sia medico mantiene realmente le promesse e le aspettative che si sono create a livello teorico o a livello della sperimentazione animale. Quindi abbiamo già i risultati di primi 1.000 pazienti impiantati pubblicati sulla più grossa rivista internazionale cardiologica che si chiama New England e i risultati sono estremamente confortevoli e positivi. Però ripeto, è un qualcosa che oggi come oggi non deve essere considerato come un'indicazione a tutti i pazienti portatori di pacemaker. Comunque in Italia e in Piemonte sono già stati impiantati? Assolutamente, ma pochissimi. Abbiamo impiantato in tutto il Piemonte 3 e li stiamo osservando. Quindi in tutto il mondo sono soltanto, le ripeto, 1.000-1.200 pacemaker impiantati. Speriamo quindi che questo tipo di tecnologia rappresenti veramente il futuro perché ne va a beneficio alla salute delle persone. Questo sicuramente. Intanto è un vantaggio tecnologico mostruoso. Già oggi sono indispensabili per un piccolo sottogruppo di pazienti che senza questo pacemaker non potrebbe avere l'impianto di un pacemaker tradizionale, ma la nanotecnologia se è così evoluta, se riusciamo a far stare una batteria che dura 10 anni in un marchigegno che pesa 2 grammi si renda conto di quale evoluzione abbiamo ottenuto. Sembra che parlavamo forse di fantascienza anni fa, ma adesso la fantascienza si è trasformata in scienza e in realtà. Tutto quello che in passato apparteneva ai libri, ai cinema di fantascienza, il 90% oggi è realizzato. Questo almeno vale nel campo della medicina. E questo secondo me è tutto a beneficio delle persone. Questo è la cosa fondamentale, a beneficio delle persone. La ringrazio Professor Gaeta per essere stato con noi e mi auguro di poterla avere ancora ospite in un'altra nostra puntata. Ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito a seguirci ancora alla prossima puntata. Chiunque volesse scriverci anche per approfondire un argomento può farlo mandando una mail a grp.it. Grazie e arrivederci.